duro 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 questo campionato raga già oggi bisogna partire con l'obbligatorietà di vincere perché ieri la juve ha portato a casa tre punti tre punti importantissimi in casa contro il napoli tre punti non scontati raccontatemi quello che volete che gioca a male che hanno culo tutto quello che volete però io una cosa la invidio questa juventus la solidità difensiva raga io vorrei avere un pizzico di solidità di solidità difensiva che la juventus perché possono subire un sacco di possesso palla avversario ma alla fine non ti dà mai l'impressione di prendere gol ed è importante è importante perché io quando vedo le partite del milan tante volte mi sembra che possiamo prendere un gol da un momento all'altro oltre ad invidiargli gli schemi a palla inattiva cazzo possibile che noi non segniamo mai su palla inattiva e questi praticamente stanno vincendo un campionato per gol pre fatti su calci di punizioni che poi scornata di testa o calci d'angoli mamma mia cioè anche questo è un pregio dopo hanno molti difetti però vi dico una cosa io sfido qualsiasi allenatore con in mano la rosa della juventus a fare meglio di quello che sta facendo come piazzamento io non dico come gioco come piazzamento la juve di allegri io sfido chiunque perché a chiacchiere siamo tutti capaci io li sento no ma siamo forti allegri che li faccio care ma a chiacchiere siete tutti capaci di parlare di calcio poi i fatti sono degli altri io sfido chiunque detto questo appunto perché è arrivato questo risultato dalla juventus oggi il milan deve portare a casa i tre punti un milan che lascia a casa raffaele au e ci sta non faccio nessuna critica perché d'altronde non bisogna rischiare e abbiamo una partita fondamentale perché ripeto finché c'è un cazzo di bricciolo di speranza noi dobbiamo crederci per la partita contro il newcastle dobbiamo credere alla qualificazione champions puoi saltenare a tutto vedremo vedremo faremo le nostre considerazioni però proviamoci proviamoci crediamoci e quindi leao deve esserci in quella partita sperando che sia in una condizione di forma accettabile perché me la ricordo già io la semifinale di champions dell'anno scorso con un leao che arrivava da un mese di infortunio e abbiamo avuto un giocatore nullo quindi deve stare bene io è quello che chiedo un atalanta che raga non pensiamo di fare una passeggiata contro l'atalanta qua a bergamo qua in casa mia perché non sarà così perché è vero arriva dalla sconfitta contro il napoli in casa però se non faceva una cazzata carne secchi non la parte non la vinceva il napoli la partita c'è la vince perché gli passa il pallone a osimè carne secchi ok sconfitta col torino hanno qualche problema anche loro di infortuni ma non a livelli c'è che gasperini tante volte fa il furbo a parole ma non è ridotto ai livelli del milan come infortuni una squadra formata da ottimi giocatori come cop miner che gli invidio io questo lo prenderai subito al milan come lukman davanti sono ridotti e con le pezze in culo perché non ci sarà scamacca dovrebbe giocare o de ketteler o muriel allora de ketteler comunque io lo sto guardando lo sto seguendo io spero sempre che faccia bene con la speranza che l'atalanta lo riscatti però è ancora quel molle quel mollacione secondo me questo non esploderà mai rimarrà sempre quel mollacione quel giocatore senza midollo che abbiamo visto a milano si ha fatto qualche gol qualche assi si si a me continua a fare a me continua a non convincere però vedrete che la sfiga io lo so già la sfiga un gol ce lo picchi dentro de ketteler sembra quelle storie già scritte comunque l'atalanta che non è quella squadra scarsa che abbiamo visto contro il toro attenzione poi a bergamo si crea un'atmosfera un clima che sarà difficile da giocare però il milan e milan deve dare continuità ai risultati che abbiamo ottenuto fino a oggi perché arriviamo da due vittorie consecutive poi possiamo discutere che quella con la fiorentina abbiamo giocato male che quella col frosinone magari abbiamo concesso qualcosa di troppo però col frosinone io ho visto un buon milan un milan in ripresa a livello di gioco anche perché comunque abbiamo il nostro centrocampo titolare e con questo il milan può andare bene e stiamo piano piano recuperando benasser raga io lo dico sempre il nostro centrocampo titolare non è inferiore a nessuno e se aggiungi benasser è superiore a tantissimi non voglio fare però con benasser l'off to cheek e renders o musà mettete chi cazzo avete voglia abbiamo il centrocampo tranquillamente alla pari con l'inter con più ampi immagini di miglioramento visto che i nostri sono più giovani quindi mi aspetto un milan arrembante sarà oggi la prova del 9 la prova del 9 della questione teo hernandez centrale perché sì col frosinone in casa ok però è il frosinone voglio vedere cosa può portare in una partita come questa impegnativa come questa se può essere davvero una grande soluzione perché comunque come dicevamo ieri teo hernandez a velocità di gioco può sa impostare può fungere quasi da difensione come regista e quindi potrebbe essere un'ottima alternativa anche se ripeto a me il teo hernandez sulla fascia manca un botto ma quando il teo hernandez quando gioca da teo hernandez mi manca un botto detto questo torna anche giù dalla squalifica un ritorno importante dobbiamo recuperare qualcosa a livello di esterni perché sta giocando sempre ciuqueze puris ciuqueze puris ciuqueze puris infatti mister ha provato per molto romero però la ci stiamo giocando anche il campionato per la sempre lasciam perdere ciuqueze puris d'altronde è vero siamo decimati è vero abbiamo il newcastle ma pensiamo questa che a oggi è la partita più importante quindi il mina scende in campo con magic mic in porta florenzi sulla sinistra teo hernandez e tomori in difesa calabria sulla destra ciuqueze che è sempre più in crescita il mio idolo renders musa loftucic gioca pulisic sulla sinistra che comunque si dice ma io non sento la mancanza di leao se sulla sinistra gioca pulisic anche perché in fase difensiva aiuta anche di più alla squadra e in fase offensiva propone molto più gioco dopo ci mancano le accelerate gli strappi di leao però non la sto sentendo così tanto io la mancanza davanti gioca oliver giru che secondo secondo me fa un po di gioca giru ma alterna subito con jovic perché bisogna tenerlo caldo e perché giru è importante per la partita di cempeso la raga sempre forza milan dobbiamo non voglio nessuno che non crede alla possibilità che questo milan possa vincere lo scudetto se poi le cose dovessero andare male e allora ci allontaniamo sapremo comunque con chi prendersela ma speriamo di no dai davvero io voglio 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 credersi perché per me il milan è costruito per vincere è una squadra che ha le caratteristiche e gli uomini per vincere sempre forza milan grazie a tutti grazie a tutti